Il protagonista Caro direttore, esordisce Bisignani Nel risico del potere, in fatto di nomine prima si parlava di lottizzazione e clientelismo, oggi, più elegantemente, di discontinuità. Ma il risultato, anche con un premier come Super Mario, non cambia. Avanti quindi in nomine draghi con gli amici e gli amici degli amici molti dei quali scelti più per affiliazioni familiari, gesuite piuttosto che euclidee, che per competenze, Picchiaduro Bisignani, il quale di fatto sostiene che le nomine dell'ex governatore della BCE non siano poi così differenti rispetto a quelle dei suoi predecessori. Caro direttore Si passa poi ai rapporti in maggioranza dove, spiega Bisignani, diversi ministri ancora non trovano la quadra perché con Draghi non riescono nemmeno a interloquire, il presidente del Consiglio, si dice a Chigi, meno li vede meglio sta? Focus poi su Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport e alla salute, la quale non vedrebbe l'ora di destinare una stoccata delle sue al premier, dal quale non riesce neppure a farsi ricevere e passa le giornate a incontrare improbabili uomini di sport del sottobosco romano o sognando di candidarsi con la Lega nelle Marche. A presto!